In queste festività pasquali sono stati numerosi controlli anche a Teramo da parte delle forze dell'ordine che hanno tenuto d'occhio in particolare il parco fluviale dove centinaia di persone sono andate a passeggiare e il rischio assembramenti è stato molto alto. Tanti controlli che comunque hanno fatto riscontrare una situazione rispettosa delle regole in via generale, un po' in linea con quello che è successo in tutto il paese. Questo sicuramente lascia ben sperare sul piano della consapevolezza e del senso di responsabilità dei nostri cittadini in una fase, quella che abbiamo definito nei giorni scorsi, decisiva. Decisiva perché ovviamente assisteremo, speriamo all'intensificazione e al potenziamento della campagna vaccinale e soprattutto sarà il mese, quello di aprile, nel quale programmare le cosiddette ripartenze cercando appunto di programmare una serie di attività che ci consentano accompagnando appunto la campagna vaccinale l'uscita dalla situazione di emergenza. Mentre sul fronte scuola tutto pronto per la riapertura di domani, ma le attività degli istituti superiori si svolgeranno per il 50% in dad. Le comuni in zona rossa saranno in presenza solo fino alla prima media, una situazione su cui il sindaco di Teramo, nonché presidente del Lancio Abruzzo d'Alberto, ha voluto lanciare un appello sia agli stessi giovani in particolare alle loro capacità di saper osservare i giusti comportamenti, ma anche all'ennesimo invito alla regione, affinché proceda con l'approvazione dei protocolli volti da un rientro in sicurezza. Quello che dobbiamo fare, quello di cui dobbiamo preoccuparci come istituzioni, in particolare la regione Abruzzo, che a questo punto non ha più il compito nel decidere se o meno tenere aperte le scuole, ma sul come tenerle aperte, sulla garanzia della prosecuzione di attività didattica in presenza e in sicurezza, appunto stabilire quelle che sono le misure che ci consentono di ripartire. Come Anci abbiamo chiesto nel giorno della chiusura una definizione di un piano vaccinale dedicato alle scuole e siamo arrivati al buon punto. Mancano ancora però i protocolli, abbiamo chiesto di approvare i protocolli sospesi qualche settimana fa dall'Aggiunta regionale, che sono fondamentali per poter garantire la gestione del Covid all'interno delle scuole e garantire la continuità in presenza, adeguandole soprattutto le varianti. Ripartiranno domani anche le scuole superiori, mi auguro che sui trasporti si sia fatto ciò che non è stato fatto prima, c'è preoccupazione da parte dei dirigenti scolastici, ecco, partiamo perché l'obiettivo è assolutamente quello di non fermarci più, quindi interroghiamoci sul come tenerle aperte le scuole, perché veramente questa opportunità preziosa che abbiamo restituito ai nostri ragazzi dopo tanti mesi di stop non possiamo assolutamente perderla.